Un libro per l'Europa, di Thierry Vissol. Il libro di questa settimana è un libro su un zar, Putin, e sulla Russia. È scritto da Gennaro Sangeliano e pubblicato da Mondadori. E quindi si intitola esattamente Putin, vita di uno zar. Allora, Gennaro, ci puoi fare un ritratto, diciamo, della personalità di Putin? Da dove viene? Chi è esattamente? È una personalità molto complessa? Ma oggi Putin è un protagonista della geopolitica internazionale e ho voluto raccontarne la biografia anche più intima di questo personaggio. Ma nel primo capitolo l'ho definito il figlio dell'assedio, perché nasce nel 52 a Leningrado. Da pochi anni si è concluso il più duro e tragico assedio della storia, un milione di morti. Quindi lui nasce in un contesto duro. Fino all'età di circa 30 anni vive in una comunalca, che era un appartamento dove più famiglie vivevano in comune. Ogni famiglia aveva una stanzetta e bagno e cucina erano in comune. Quindi è il portato storico di questo contesto. Ma nel stesso tempo ha un carattere, diciamo, piuttosto chiuso. È una personalità molto sportiva. Fa del judo, fa anche lo sport nazionale, diciamo, di combattimento. Ha un culto del corpo. Non beve, non gioca. È una personalità, diciamo, molto quadrato. È abbastanza chiusa. Non è tanto sorcevole. È una personalità con una doppia faccia. Molti tratti che hai descritto tu. Lui stesso si autodefinisce un holigans. Nel senso che è uno che picchia, picchia duro in strada con gli altri ragazzi. È però anche molto studioso. Ama la storia, studia le lingue straniere, studia molto bene il diritto. Riesce a entrare nella ambitissima facoltà di giurisprudenza di Leningrado, dove per pochi posti c'erano migliaia di concorrenti. Però è un russo atipico. Appunto, per esempio, non beve. E questo è un elemento molto importante. È un uomo dalla vita molto disciplinata, che lascia preconizzare l'ingresso in questa grande organizzazione che è il KGB. E nello stesso tempo è molto fiero. Non supporta di essere insultato o di essere messo nelle strette. E quello è un tratto che vediamo anche nella sua politica negli anni successivi. Cioè è orgoglioso, indubbiamente orgoglioso. E comincia con una carriera nel KGB, dove rimane almeno 15 anni e diventa tenente colonnello. E poi di là, con la caduta del muro e la fine del comunismo, entra in politica a Leningrado, a San Pietroburgo. E di là comincia la sua carriera politica. Il KGB va ricordato che non è soltanto la famigerata polizia sovietica, il braccio armato del regime. È anche l'apparato più efficiente, è quello che attinge agli uomini migliori, dal punto di vista della preparazione, della cultura, dell'Unione Sovietica. E quindi lui parte di lì. Arriva alla politica un po' fortunosamente attraverso un suo vecchio professore di diritto, Anatoly Sobciak, e dimostra subito doti di amministratore. E di là può cominciare effettivamente su base dei risultati che ha ottenuto in termini di amministrazione. Può andare al Cremlino, a Mosca, e diventa, grazie a Elstein e grazie anche a alcuni oligarchi, diventa primo ministro, poi è eletto presidente della Russia. Ma per le doti che abbiamo detto prima, per i tratti del carattere che abbiamo detto prima, lui appare subito come l'uomo d'ordine che può far superare il caos dell'epoca di Elstein, che è l'epoca dei grandi oligarchi che si sono appropriati dei beni energetici della Russia, è l'epoca dei mafiosi che dettano legge nelle grandi città della Russia, e quindi Putin è l'uomo d'ordine che può tirar fuori la Russia dalla miseria e soprattutto gli può ridare un orgoglio nazionale. Sì, perché si deve ricordare che alla fine del periodo degli anni 90 la Russia è in grande crisi economica, anche vicino al falimento, ha bisogno di un prestito del Fondo Monetario Internazionale per uscire di questa crisi, e Putin appunto, quando è stato eletto, comincia a mettere ordine dappertutto, nell'economia, nelle finanze pubbliche, nelle forze armate, e a ridare questa identità persa ai russi. E così? Lui realizza due grandi operazioni, secondo me. È l'uomo d'ordine che mette ordine nell'economia, strappa le ricchezze dalle mani degli oligarchi, anche in maniera molto dura e brutale, e le restituisce nelle mani dello Stato, quindi può fare investimenti pubblici, e dall'altro lato ridà ai russi un'identità fondata su tre elementi. Il richiamo alla tradizione della grande Russia zarista, il richiamo anche ad alcuni elementi dell'Unione Sovietica, ma soprattutto il richiamo alla religione ortodossa. E nello stesso tempo vuole ridare alla Russia una presenza internazionale, e là cominciano un doppio, diciamo, problema. Cominciano un doppio problema. All'interno ha un potere di ferro, che non lascia molto spazio alle opposizioni, e all'esterno vuole anche intervenire di modo che la Russia potesse avere qualcosa da dire nell'ordine internazionale. Io penso questo, però, che Putin non è amato dalle élite dell'Occidente, però ha molto consenso anche, però, nelle opinioni pubbliche occidentali. Questo mio libro è venduto da... Anche nelle destre occidentali. Nelle destre e sinistre, cioè pesca da una parte e dall'altra. Meno accorgo dagli inviti che mi vengono fatti a presentare il libro, o sinistra o destra. E quindi è un personaggio che poi affascina le opinioni pubbliche occidentali. Secondo te è pericoloso adesso con tutto questo richiamo, diciamo, alla patria, alla forza nazionale, contro la globalizzazione, contro, diciamo, la vita all'occidentale, contro gli omosessuali, contro le libertà individuali, con degli interventi che non si capiscono sempre bene, che sia l'Ucraina, la Crimea, la Siria, eccetera, dove non si sa veramente contro chi combatte. No, non è pericoloso perché lui cerca il consenso del suo popolo e il suo popolo non è affatto un popolo pericoloso. Noi guardiamo con molta presunzione i russi, ma dimentichiamo che i russi sono quelli che hanno dato la più grande letteratura al mondo, una letteratura dell'introspezione umana, del carattere umano. Anche i tedeschi l'hanno fatto. Anche i tedeschi l'hanno fatto. E hanno avuto altri problemi, diciamo. Hanno avuto altri problemi. Io credo che il popolo russo sia un popolo che abbia da tempo superiato l'ambizione in imperiale. Putin richiede soltanto rispetto cioè non vuole che il modello anglosassone sia un modello che debba essere totalizzante in tutto il mondo. Questo non lo vogliono i cinesi, non lo vogliono gli indiani, non lo vuole una parte del nostro pianeta. Credo che noi l'epoca dei modelli totalizzanti sia finito. Siamo nell'epoca del policentrismo in cui ciascuno ha la dignità per sviluppare il suo modello. E quindi vi consiglio questo libro di Gennaro San Giuliano Putin, vita di uno czar pubblicato da Mondadori nel 2016. Un libro per l'Europa vi tirivi solo.